Sono onorata di ospitare, quindi ringrazio la dirigente Bacci che è rappresentante appunto della scuola capofila di questo importantissimo progetto e però vede protagonisti di 17 istituti del nostro Val d'Arno. Ringrazio naturalmente tutte le dirigenti di Montevarchi, del primo e del secondo ciclo e del dirigente di Capriglia che partecipano a questo evento perché appunto hanno scelto di svolgerlo il 17 di giugno proprio a Montevarchi nella nostra piazza. Un evento importante perché è sicuramente un progetto, questo della RISVA in musica, che dà il segnale concreto di una scuola all'avanguardia, di una scuola moderna che oltre naturalmente alle materie di corso normali stanno sviluppando in maniera fattiva ormai da tempo anche il settore della musica. Quindi un progetto importante per promuovere la formazione e la pratica della musica non solo a scuola ma anche attraverso lezioni extrascolaste anche per disperdere, appunto per combattere la dispersione scolastica. Quindi un progetto inclusivo, tant'è che uno dei fiori all'occhiello di questa iniziativa è che oltre alla creazione del coro e dell'esamble hanno creato anche una sezione del coro legata appunto al linguaggio dei segni. Quindi un esempio veramente di una scuola moderna, all'avanguardia, che parla a tutti, che parla a tutti i linguaggi della cultura e questo sarà un grande evento che coinvolgerà naturalmente questi splendidi ragazzi, le loro famiglie, tutto il Val d'Arno. Un esempio appunto delle scuole del Val d'Arno che sono veramente un fiori all'occhiello del nostro territorio.